Ci abbiamo la guida boricina che sta dando i numeri, si dice che sulla barca è dura e che noi occidentali del cazzo ne approfittiamo della loro e dice che il cugino quando arriviamo a terra ci farà vedere le bancarelle tipiche del posto e anche che ha ricambi dei cateteri per i vecchi usati, poi stanno facendo anche una cosa, gli diciamo anche di rallentare perché tra un po' ci si chianteremo con il cazzo che rallenta l'uva sempre a manetta dobbiamo fare il giro dell'aboriginandia adesso, stiamo sbagliando, via, su c'è un coccodrillo là lo vediamo, fiora, non ci sono coccodrilli, ha detto ci sono grossi coccodrilli, la parola a fiora vuol dire grossi, croccodrilli l'avete capito tutti, chiudiamo il filmato perché adesso c'è la telecamera davanti che riprenderà il resto, costa gara, che c'è Ganesha pure ha detto che è l'elefante, lo facciamo da qua o da là il giro della morte? Da là, ok, arrivederci!